buongiorno a tutti dal mix estivi due funghi, bello, mamma mia qui a 1.080 metri e non riuscivo a capire però guardando bene dai guardate un po lì che mucchietto di foglie al piede del faggio con solo che vi picchi accontro c'è lui c'è una bomba e guardate come il fungo solleva la foglia guardate che cose pazzesco ho visto la foglia alzata e poi ho visto il fungo guardate fantastico guardate che bello ci ha dato una pulita a sommare al fungo e piovanti dai appena 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 piovanti un altro guardate che bello mamma mia che fugi mamma che bomba e questo vado a fare il furbetto ma l'abbiamo pizzicato anche noi ma ragazzi guardate che roba guardate che cosa bomba 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 è appena più sotto dai mi sono girato e lui è qua un'altra bomba irricchido vai vai viiii aiis disescare qua è difficile altra bomba mamma guardate che roba è incredibile ma si si anche oggi belli 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 la rete guardate questo estivo che bello che è un altro bel fungo solitario imponente estivo ho preso un bel costino dai qua mille metri tra i canali diciamo guardate qua sotto l'erba guardate che estivi gli altri due l'altro dietro non si vede lo andiamo a prenderlo guardate che che cose che cose metteremo qua guardate che sì ci rivoltiamo guardate l'altro ecco questo un po più avanti questo anche ma ci accontentiamo ok un boccetto veramente veramente ragazzi bello ho trovato un red da paura ragazzi da paura guardate che roba non è un red è un edulis da qui sembrava un red però vedete righino bianco edulis da paura guardate che roba uno qui e uno là ma questa zona mi ha dato dei funghi bellissimi zona evidentemente non girata da nessuno perché qui c'è il passo dei cinghiali ve lo faccio vedere io di solito prendo questi passi che fanno gli animali per attraversare i canari andare da un bosco all'altra da una spalletta all'altra vedete che c'è il passetto che va e ho visto subito questo qui poi subito guardate che roba poi guardo più in alto e c'è l'altro piccolino come ho detto va beh sono già contento due bei funghi poi mi giro guardate ce n'è un altro qui che fa tre uno qua che fa quattro poi più su c'è la fungaia che sale guardate 5 6 7 ecco la fa 8 8 funghi vediamo se ce n'è altri ma direi che come fungaia non è male questo qua eccolo 9 9 9 9 9 eccolo qua si nascondeva va beh un po' avanti qui è forse un posto che prende un po' più caldo un po' più sole guardate come sono bianchi questi sono incastrati veramente questo è un estivo qui c'è il primo che ho visto e qui c'è quello bello insomma anche lui avanti dai sembrava più bello sono così qua costino caldo guardate guardate Grazie a tutti